Allora, questo progetto nasce proprio da AIEA, perché AIEA, l'Associazione Italiana Esperti Africa, ha come scopo principale la divulgazione, per cui abbiamo pensato, abbiamo creato questo progetto proprio per raccontare l'Africa, dal punto di vista naturalistico ovviamente, ma anche e non solo quello, ai ragazzi giovani delle scuole di ogni ordine e grado, proprio per farla conoscere, perché dalla conoscenza può derivare l'amore, per cui la protezione, perché comunque è un continente che ha molto bisogno di protezione, sia dal punto di vista naturalistico, perché c'è grosso problema di bracconaggio, gli animali vengono uccisi, e sia dal punto di vista sociale, sappiamo tutti che molti bambini versano in situazioni poco carine in Africa, c'è molta povertà. Lisa, parliamo del progetto umanitario, un altro aspetto molto importante. Esatto, adesso appunto con Aiea aiutiamo a far crescere questo progetto in Namibia, si chiama Mamadou, è una specie di oratorio, diciamo, è nato come un centro d'accoglienza per i ragazzi delle baraccopoli di Windhoek, quindi la periferia di Windhoek, o Tiamuse, per la precisione, e praticamente si cerca di garantire lo studio ai ragazzi delle baraccopoli che spesso non hanno possibilità di introdursi nelle scuole, sia dal punto di vista culturale, sia dal punto di vista linguistico, perché spesso non parlano l'inglese e quindi hanno bisogno comunque di essere seguiti molto di più. Ci sono degli ostacoli, insomma. Ci sono degli ostacoli. Da noi la scuola è normale, là invece... Non è così automatico, anche perché comunque ci sono delle etnie marginali che sono considerate, non marginali, più che altro proprio da popolazione stessa. E si va a puntare proprio su questo. L'educazione è l'arma più potente per cambiare il mondo, diceva Nelson Mandela, quindi diciamo che istruire comunque tutti è l'obiettivo, naturalmente partendo dal piccolo, quindi dalle baraccopoli di una capitale, si può far crescere, insomma, un po' tutti, appunto, garantire la cosa più importante alla fine per una persona, ovvero lo studio e la cultura. Fiorenzo, scoperto un po' di Africa oggi, cosa possiamo dire in chiusura? Beh, intanto che sono felicissimo di questa cosa, di aver avuto loro come ospiti, e niente, noi proseguiamo, ne abbiamo ancora un giorno, quindi avremo le proiezioni del pomeriggio, quelle della sera, e poi domani chiudiamo con Red Carpet, con tutti i nostri ospiti e con la serata di gala, la quale chiaramente invito a partecipare tutti quanti. Domenica sera alle ore 21 sul canale 16 di Imperia TV andrà in onda la serata finale del video festival. Sarà così riproposta la cerimonia di premiazione dei vincitori della decimedizione della rassegna con gli interventi dell'attore Alberto Patrucco. Tra gli ospiti anche Beppe Tenti, Dario Ballantini, Vincenzo Venuto, Walter Vacchino e Davide Bomben. Alla serata di gala parteciperanno anche le ragazze del concorso di bellezza Miss Stella del Mare 2014. Miss Stella del Mare 2014.